La raccolta rifiuti in Sicilia è al collasso. Sono 2.944 i dipendenti che nella sola provincia di Palermo rischiano di perdere il posto di lavoro. In totale sono circa 10.000 i lavoratori che operano su tutto il territorio dell'isola. Oggi stanno manifestando davanti la sede del lato 5 Ecologia e Ambiente gli operai di Termini Merese. E' emergenza anche per lato 4 dove sono circa 500 i dipendenti della CoinRes che da novembre non percepiscono gli stipendi. Anche i lavoratori della Simeto Ambiente di Catania hanno proclamato uno sciopero. I lavoratori sono stanchi di essere presi in giro. I comuni devono trasferire le risorse. La situazione è arrivata al collasso. I primi che stanno già arrivando al limite sono appunto lato 4 e lato 5. Parliamo di CoinRes ed Ecologia e Ambiente. Sul CoinRes abbiamo mancanza di stipendi addirittura in alcuni comuni da novembre. Mentre sul lato 5 registriamo mancanza di retribuzione a partire da dicembre. Siamo al limite del collasso igienico-sanitario. Il tema è sempre quello. Perciò che compete AMIA che è l'azienda ovviamente più grossa nel territorio siciliano, l'azienda è ancora in fase di amministrazione straordinaria. Se allarghiamo il raggio abbiamo il consorzio simico a Catania. A Messina 1 dove c'è la multi-ecoplast i lavoratori sono in attesa di retribuzione da mesi. A Messina 2 dove c'è la ditta d'asti ci sono operatori con più di 10 mesi di ritardo nelle retribuzioni. Se ci spostiamo nell'ennese la condizione di N1 è certamente pesante. La vicenda di Caltanissetta ha già determinato contratti di solidarietà per i lavoratori. IGM a Siracusa ha avviato le procedure di licenziamento per una cinquantina di lavoratori. Il quadro è disarmante. Bisogna correre. I soldi ci sono.